bisogna farci caso con il cane quando prendiamo un cane accadono tante cose spesso l'attenzione è portata sulle cose che vanno meno bene tuttavia quando abbiamo un cane scopriamo che la vita è bella e che ci sono tante belle situazioni che il nostro cane ci fa vivere ci fa sorridere e ci fa scoprire bisogna solo farci caso capitano anche dei momenti di difficoltà ed è in quei momenti che è importante sapere aiutare il cane saperlo sostenere perché si costruisce la relazione la si fortifica e se non sai come fare fatti aiutare la vita con il cane è bella ci sono tante belle situazioni tante bei momenti bisogna imparare ad apprezzarli e soprattutto a farci caso ogni cane è un dono basta rendersene conto ciao da stefano pesci istruttore eduatore cinofilo comportamentale specializzazione norvegese nella risoluzione problemi nel comportamento nel benessere del cane il datore del metodo toghera dog le sce era un cane insegnante se ti fa piacere può contattarmi dal mio sito www istruttore cinofilo punti t ciao